Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Partiamo con una triste notizia Nel pomeriggio si è infatti spento L'ex calciatore di Torino e Milan Successivamente anche allenatore Luigi Radice All'età di 83 anni Era malato di Alzheimer da tempo Tornando alla Fiorentina Il club di Via Elefanti Tramite un comunicato ufficiale Apparso su Viola Channel La società ha ribadito la piena fiducia Nel progetto avviato ad inizio stagione Nel tecnico Pioli La cui posizione è tornata ben salda A parere della Valle Vi ricordiamo che la prossima gara Della squadra toscana Sarà visibile sulla piattaforma streaming da Zon Mentre dove vedere le altre gare Potete leggerlo sul nostro sito Questa sera gara molto importante Per il nostro campionato Visto che prende la scena Il derby d'Italia Tra Juventus ed Inter Dall'Allianz Stadium bianconero Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi La voce del tifoso Viola